Ciao a tutti cari amici dello Sporti Milano 3 Basket, siamo con Nicola Bertoglio alla vigilia della sfida in trasferta contro Varese in quella di Masnago. Nicola sicuramente una partita speciale per te. Sicuramente io lì all'ex Palawirbul ho passato veramente tantissime ore dai 14 ai 21 anni, quindi tantissimi ricordi, non vedo l'ora. Ecco, mercoledì sera sarà sicuramente una partita speciale come detto, che gara ti aspetti? E allora, tante incognite perché noi comunque non giochiamo da una settimana e faremo oggi il primo allenamento dopo una settimana di squadra, quindi siamo un po' tra rivetta e rugginiti, dall'altro lato affronteremo una squadra giovane, molto veloce, molto rapida, con anche del talento, quindi finora l'ha dimostrato, ci sta nettamente nella categoria, sarà una partita difficile. Reduce al punto da una vittoria sul campo di Alcestate, cosa non dovrà mancare? Non dovrà mancare due cose secondo me, l'intensità da entrambi i lati del campo e l'attenzione, perché squadre che giocano ad alto ritmo come Varese Academy possono trarre giovamento da errori o da fasi di down nostre, quindi grande attenzione sui 40 minuti e grande intensità. Ringraziamo Nicola Bertoglio per essere stato qui con noi, ricordiamo l'appuntamento di mercoledì sera alle ore 21 alla Pala in externa arena di Varese contro Varese Academy. Ciao a tutti, grazie.